Musica Mi batte il cuore Incontrare queste ragazze e questi ragazzi La loro voglia di stare sempre sulla frontiera del cambiamento Generazione News è un modo per raccontare i temi più scottanti E farlo con gli occhi di una nuova generazione Senza paura delle domande da porre E senza paura di poter sbagliare E' questo che noi vogliamo costruire Un luogo che dia cittadinanza attiva a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi Anche il Consiglio regionale ha didacta L'appuntamento dedicato alla formazione e innovazione scolastica Che si è svolta dal 20 al 22 marzo Alla fortezza da basso di Firenze Vogliamo accendere Spiega il Presidente del Consiglio regionale I riflettori su innovazione e partecipazione studentesca Con due progetti Art Centrica e Generazione News Allora Generazione News è il giornale ufficiale di tutte le scuole toscane Questo vuol dire che nasce dall'unione delle rappresentanze studentesche Dell'ordine dei giornalisti e delle istituzioni Che ci hanno dato una mano a metterlo in piedi Siamo andati in tutte le scuole della Toscana A mandare un modulo per trovare i ragazzi Che potessero essere interessati a essere i protagonisti dell'informazione E ne abbiamo trovati un centinaio Ottanta di questi si occupano della scrittura degli articoli Mentre venti si occupano dell'aspetto tecnico Quindi il montaggio dei video, la cura del sito La cura dei profili Instagram, Facebook e di tutti i social Questi ragazzi vanno a raccogliere le informazioni in prima persona Tramite interviste, questionari, lavori sul campo E poi tramite l'aiuto di caporedattori Che sono anch'essi dei ragazzi formati Per aiutare gli altri a scrivere Secondo un approccio peer to peer Che è molto utile per sviluppare un senso di appartenenza Proprio verso il giornale E quindi vanno a scrivere Questi articoli vengono pubblicati sul nostro sito Generazione News e sui nostri canali social La cosa importante di Generazione News È che non è un semplice giornale Che vuole comunicare delle notizie scollegate tra loro Ma ha proprio l'obiettivo Essendo appunto il giornale ufficiale degli studenti toscani Di sviluppare un po' il confronto all'interno delle scuole toscane Per creare lo spirito civico E la capacità nei ragazzi di conoscersi E di dibattere Che molto spesso purtroppo manca nelle scuole italiane Che con Generazione News invece proviamo a riportare all'interno A illustrare i progetti in cantiere realizzati In collaborazione con alcune amministrazioni comunali della Toscana La Presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi Due grandi progetti Un progetto di protocollo con l'ufficio scolastico regionale E avremo ad esempio due progetti realizzati nelle scuole Uno di un giornalino tenuto dai ragazzi E quindi dando loro l'occasione di raccontare il mondo dal loro punto di vista E l'altro invece concentrato sull'uso della tecnologia negli studi artistici in generale Con alcune classi presenti Poi abbiamo un altro grosso filone di lavoro Di progettualità del Consiglio regionale Con i diversi progetti che negli anni abbiamo sostenuto A sostegno della lettura e della diffusione della lettura Non soltanto abbiamo proposto una PDL al Parlamento Che vorrebbe introdurre almeno 20 minuti di lettura libera, silenziosa e privata Nelle scuole ogni giorno Ma abbiamo anche sostenuto poi la diffusione di buone pratiche Sulla lettura nei comuni toscani Oggi ne avremo alcuni qui ospiti Che ci racconteranno il lavoro che hanno fatto Con le insegnanti e con i ragazzi E con i cittadini stessi Progetti realizzati in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale della Toscana Una collaborazione questa tra le diverse collaborazioni che abbiamo in atto Molto molto interessante, importante Che vede appunto la nascita, che ha dato la nascita a questo progetto Generazioni News, quotidiano online Un progetto con un impianto solido Radicato, molto radicato Nelle realtà scolastiche toscane Che vede la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei giovani Che attraverso un affiancamento Da parte dell'ordine dei giornalisti E della fondazione degli ordini dei giornalisti Realizzano questo giornale online Che sta ricevendo un grosso interesse da parte delle scuole E quindi è nostra intenzione ovviamente sostenere questo progetto Per radicarlo, ampliarlo ulteriormente E cercare il massimo coinvolgimento possibile delle scuole del territorio Non a tappa delle Corecom Tour L'incontro nelle province della Toscana In collaborazione con l'UPI Promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni A Firenze l'appuntamento in Palazzo Medici Riccardi Serie della città metropolitana Per far conoscere sempre di più le funzioni del Comitato Sono tante sia di vigilanza generale sulla programmazione radio televisiva Ma anche di educazione digitale Soprattutto nei confronti delle scuole I vari bandi che abbiamo in essere Tutto il tema delle controversie telefoniche Che va a coinvolgere migliaia di persone ogni anno Per cui in questo senso sicuramente La collaborazione che abbiamo avuto Da l'UPI e dalle varie province in Toscana È stato un elemento positivo Perché ci ha aiutato fino in fondo A far conoscere di più le funzioni A metterci a disposizione Fra gli impegni delle Corecom Quello legato al patentino digitale Un'attività che viene svolta insieme alla Polizia Postale Gli Innocenti, l'Ufficio Scolastico Regionale Regione Soscana L'obiettivo è quello di rendere i ragazzi consapevoli Sempre più consapevoli della navigazione sul web Ormai siamo pervasi da queste informazioni Riceviamo un numero di informazioni Che potremmo definire infinite In rapporto alla finitezza della nostra esistenza Però questo numero di informazioni Non corrisponde automaticamente A un aumento di conoscenze E soprattutto porta anche a dei rischi Se non si conoscono esattamente E se non si conosce la grammatica di questi Questo è l'obiettivo Quindi la formazione viene rivolta prevalentemente A studenti della prima media Cresce anche il numero dei ricorsi Per le controversie con le compagnie telefoniche E cresce il ruolo dell'Ecorcom Perché oltretutto da sei anni a questa parte È stato tutto digitalizzato E quindi non c'è più l'udienza fisica Ma c'è una piattaforma nazionale E quindi niente, è bene che venga pubblicizzata La cosa importante è che queste controverse Per esempio nel 2023 Sono arrivate 3.000 e passa istanze E l'80% è stato risolto L'attenzione ai giovani passa anche attraverso bandi e premi Abbiamo quello sul comunicatore toscano dell'anno Che quest'anno, lo scorso dicembre È stato dato a dei giornalisti toscani Impegnati sui fronti di guerra più caldi Visto il momento che stiamo vivendo In quel contesto è stato premiato anche Il vincitore della miglior tesi in comunicazione magistrale Tesi magistrale degli atenei toscani Poi abbiamo Toscana che fa bene Dove viene premiata la miglior comunicazione di privati O associazioni che fanno appunto comunicazione di alto valore sociale Poi abbiamo Toscana in spot Ogni anno decidiamo un tema E premiamo il miglior spot Quest'anno erano le dipendenze digitali A rappresentare la città metropolitana di Firenze Il sindaco di Scandicci È assolutamente decisiva nella vita reale delle persone Perché la comunicazione, il suo indirizzo, il controllo La comunicazione istituzionale fanno parte attiva E concreta dell'esercizio della democrazia nel suo pieno sviluppo E poi soprattutto c'è quella attività di compensazione delle controverse telefoniche Che fanno parte insomma della vita reale delle persone Della loro quotidianità, dei loro problemi Anche di sapersi districare con una garanzia di compensazione istituzionale Nella giornata di incontro anche la Presidente e la Vicepresidente Della Commissione Cultura del Consiglio regionale Sentivamo la necessità che i cittadini avessero più occasioni Per conoscerla, per conoscerne le funzioni Si occupa di informazione, telecomunicazioni Ha delle funzioni delegate dallo Stato Ha delle funzioni proprie più di tipo culturale E in Toscana sta facendo un grandissimo lavoro Soprattutto con i più giovani Questo strumento, perché il Corecom lo ritengo uno strumento Diciamo della regione toscana Per tante motivazioni, per tanti aiuti Che può dare, fra l'altro, gratuitamente A tutti gli utenti della regione Sia per le comunicazioni, le controversie, eccetera Aumentare la formazione, le politiche di prevenzione Così pure i controlli In accordo con i lavoratori e le rappresentanze sindacali Il Consiglio regionale della Toscana approva Una risoluzione unanime in tema di sicurezza sul lavoro Lo fa dopo un pomeriggio di dibattito Aperto dall'informativa in aula Dell'assessore Stefano Cioffo Che parte dagli ultimi drammatici episodi Gli incidenti mortali di Firenze e Lucca E fa il quadro della situazione Oltre 7 milioni di euro di risorse Impegnate negli ultimi anni Per le politiche di prevenzione Uno organico di 350 unità Tra medici del lavoro, ingegneri Tecnici della prevenzione Che opera a livello regionale Intervengono tutti i gruppi consigliari L'EPD chiede un impegno sulla linea Della carta di Firenze Vale a dire Ridurre i subappalti Soprattutto o almeno In alcuni settori che sono i più esposti Come quello dell'edilizia e della filiera agricola Aumentare i controlli E per questo occorrono più ispettori Occorre maggiore personale Sia per l'ispettorato del lavoro Che amministriale Sia per quanto riguarda anche Le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie Occorre una formazione Per la cultura della sicurezza e della legalità E questo deve essere fatto a tutti i livelli Ad iniziare delle scuole E poi una formazione che almeno in alcuni settori Penso a quello dell'edilizia per esempio Si faccia nel cantiere E si faccia con la presenza di tutte le figure professionali Che sono coinvolte Ecco queste sono alcune idee che noi indichiamo E su questo chiediamo l'impegno della Giunta e del Presidente Di rapportarsi anche con il Governo Perché si vada in questa direzione Perché questo è veramente uno sforzo di civiltà La sicurezza dei lavoratori E da quanto si evince la comunicazione dell'assessore Cioffo Sicuramente non è un tema che passa in secondo piano All'attenzione di chi governa oggi la Regione Stesso discorso vale per il Governo nazionale Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento Ha assunto 800 nuovi ispettori Per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti Ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli E aggiungo io tanti di questi controlli Dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti Non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati O su come i cantieri lavorano Perché purtroppo anche il tema dei contratti È un tema che ricorre sempre più spesso Spesso e volentieri al lavoratore Non si fa il contratto più consono È più congruo alle proprie mansioni Ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione E questo è quanto di più sbagliato possa accadere Abbiamo apportato anche noi delle richieste Alla Giunta regionale Perché pensate nel 2017 È stato chiuso l'apparato gestionale Dal punto di vista amministrativo regionale Che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro Ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità Il tema della gestione Anche sulla sicurezza in tema sanitario Quindi un unico maxi Una maxi struttura regionale Su cui però ci sono dei dati allarmanti Perché pochissimi sono i dipendenti Che occupano la posizione in tema di controlli In tema di sicurezza È un lavoro molto molto delicato Su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione Di corsi di stabilità anche psicologica Per coloro che vi lavorano all'interno Sicuramente la regione toscana ha dei punti a suo favore Per quanto riguarda il numero dei controlli Perché supera la media nazionale del 5% Sul tema dei controlli Però ha anche tante leggi Che siedono lì E che sotto tanti punti di vista Non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano Dalla legge sull'amianto a quella per i rider Ancora il tema del personale Sapere che il personale che è a disposizione Per questa importantissima e delicatissima funzione È ai minimi termini E che il fatto delle banche dati Che tra di loro non riescono a comunicare Permetta anche pochi controlli documentali È allarmante I cantieri in Toscana sono moltissimi Disparati all'interno dei quali Lavorano molte professionalità E l'unica proposta che secondo noi Seria è arrivata dalla regione È quella di introdurre la possibilità di accedere A cantieri per tramite Dello strisciare il proprio tesserino sanitario In modo da poter identificare Tutte le presenze dentro un cantiere E sapere se queste sono preparate Anche alla sicurezza Ma non è sufficiente Sono state fatte delle campagne informative Ma sono ancora troppo poche Il settore dell'agricoltura Continua a essere tra i più colpiti E sappiamo che quello dell'agricoltura È uno dei settori che Occupa la maggior parte di manovalanze straniere Che quindi hanno bisogno Di una particolare attenzione Proprio per la fragilità Della situazione in cui spesso I lavoratori si vengono a trovare È sottodimensionata l'infortunistica All'interno del sistema ferroviario E abbiamo il sistema del massimo ribasso Che fa sì che la tutela Del lavoro e dei lavoratori Passi in secondo piano Rispetto a quelli che sono Dei conti ragionieristici Per cercare di trarre Il massimo possibile di ricavo Da un appalto Semplificazioni normative A più verifiche Dice Italia Viva Serve che le persone Possano essere messe Nelle condizioni di lavorare In maniera sicura E soprattutto Che le nostre aziende sanitarie Siano collaborative Nei confronti degli imprenditori Nei confronti dei lavoratori Serve magari Maggiore comprensione Maggiore disponibilità Flessibilità Ma anche normative più semplici Questo è l'invito Che fa Italia Viva Per fare in modo Che il lavoro Possa essere svolto In sicurezza E che nel contempo Le imprese possano lavorare Ma allo stesso tempo Le aziende possono essere Dei soggetti Che lavorano Al fianco delle imprese Insieme ai lavoratori Semplificando anche Il quadro normativo Molte volte Ci si limita O ci si difende Facendo una normativa Ma poi molte volte Si creano maggiori Oneri magari burocratici Meno carte E maggiore tutela Del lavoratore C'è anche un tema Di responsabilità personale Dice il gruppo misto Perché vanno a comprare La maglietta Made in Cina O made in India Dove la sicurezza Dei luoghi di lavoro Non è rispettata Cioè Tutto quello Che viene detto È tutto logico E giusto Di fronte a delle Tragedie Come quella di Via Mariti Oppure altre Che ci sono state Come la ragazza di Prato Che fu schiacciata Dal macchinario Per l'amor di Dio È bene che ci sia Come è stato detto Una formazione Fin dai tempi Della scuola Per creare Una cultura Della sicurezza E una cultura Poi Da parte Degli operatori Degli imprenditori Sulla questione Sicurezza Dei luoghi di lavoro In realtà Però poi Dobbiamo essere realisti E finiamo Per Doversi scontrare Con una realtà Che è ben diversa Perché comunque L'economia È quella che è L'angue E Automaticamente Tutti noi Vanno a fare La spesa Dove C'è Le cose Che costano meno Sono il team manager Della squadra Juniors Toscana Che quest'anno Ha partecipato Ai campionati Italiani Della cucina E ha vinto Il primo posto E anche L'assoluto Nei campionati Della cucina Raduci dai campionati Italiani 2024 Promossi Della federazione Cuochi italiani I giovani chef Toscani Che hanno vinto La competizione A squadre Sono stati premiati In consiglio regionale Ogni qualvolta Si riesce a far conoscere Le qualità Della nostra terra È bello È importante Ma quando a farlo Sono i giovani Che davanti a loro Hanno un futuro Importante È ancora più bello A voi I miei più sentiti Complimenti Continuate a portare in alto Il nome della Toscana Cercate sempre Di stare Sulla frontiera Del cambiamento Mantenete insieme L'identità E le tradizioni Ma anche la cucina Più moderna Siete un orgoglio Per tutti noi E vi auguriamo Tanta tanta fortuna Professionale E nella vita Con loro il presidente Dell'Unione regionale Cuochi della Toscana Che ha sostenuto La nascita del team E il percorso Verso i campionati Sempre cercando Di valorizzare La gastronomia toscana La gastronomia toscana I prodotti E le eccellenze toscane Abbiamo preparato i ragazzi Spiegandogli Le tecniche Le preparazioni Insegnandogli Come funziona Un concorso E siamo arrivati A Rimini E ci siamo fatti rispettare Anche quest'anno Una decina Di giovani cuochi A formare La squadra toscana Allievi Dell'istituto Alberghiero Di Montecatini Terme E capitanati Da un diplomato Dell'alberghiero Di Pisa Il lavoro Il lavoro c'è Noi prepariamo i ragazzi I ragazzi che vogliono Fare questo mestiere Trovano da lavorare Alla cerimonia di prime azioni Anche i consiglieri regionali Ceccarelli E De Robertis La regione sta investendo moltissimo Nel promuovere i propri prodotti Noi ci raccomandiamo sempre ai cuochi Ora in questo caso ai ragazzi così giovani Rispettateli Perché le materie prime che gli vengono consegnate Sono di assoluto rispetto E credo che con la loro capacità Con la loro maestria Portino davvero in alto questi prodotti Grazie a tutti